AAAAAAAH! NO! NO! NON MI AVRAI FIGIO DI ZO- Cia a tutti ragazzi, qui è una Sfortuna di Chicks Murray e benvenuti in un nuovo video di Minecraft Oggi sono qui con un ospite speciale che non l'avete mai visto sul mio canale Surreal Power, bella Surreal Ciaaa! Ciaaa! Esatto E siamo su Minecraft per giocare Sì, ma non ti vedo, dove sei? Io sono dall'altra parte della siepe Della siepe, ma non ci sono siepi Allora, questa modalità, che io non conoscevo perché me l'ha... mi ha illuminato Surreal Quindi ora, la spieghi tu, il compito ardo, aspetta te, che io non so di che micchia si tratta Allora, praticamente, sì, praticamente è questo Tutti hanno delle mani, tu devi usarle per gli altri Bene Picchia di più, vince Beh, ottimo, quindi tipo Minecraft in real live, GTA Se tu dici parolaccia contro mia mamma, aspetta un pugno Due... una... corri, 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 corri Ho una canna da pesca, una duppa... scappa 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 scappa, stacca Stacca! 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 Ti sono dietro, ti sono dietro Dai, 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 dai! Perda, sono nella... Ho una canna da pesca e non ho paura di usarla Ok, io ho un po' lo fritto, non mi picchiare figlio occhio, ok Dove scappiamo, dove scappiamo? C'è un vascello Ehhh, allora intanto andiamo a destra di qua Se chiamo tipo lì pazzo C'è della TNT la sic- Mia frate, aia! Bastardo, mi cito con la canna, mi cito con la canna, aiutami! Ma dove sei? Ma non ti vedo! Ma dove sei? Fermalo! È lì, Chris002! Quel filocchio con la bandana! Aiuto, surreal! Ma dove sei? Ma sotto il vascello! Ho un cuore! C'è crepo, c'è crepo! Un uomo più veloce di te! Ah, ma qua è il vascello, è l'altro vascello! Ma sei un coglione, prendimi! No! Bastardo, sono morto! Bravo, surreal! Me l'hai buttata in culo, bravo! Non fidatevi mai di surreal, ve lo dico per esperienza! Hashtag non è colpa di surreal! Hashtag porca troia dove eri! Quando mi serviva aiuto! Ok, guarda, mi vedi? Eh... Sì! Mamma mia, sei roboticissimo! Non si sente un cazzo! Mi raccomando, apprenditi con vascello, sbaglio di nuovo! Guarda dove dobbiamo scappare, dietro di me, dietro di me dobbiamo scappare! Ok, ok, prendi una cesta a casa, io prendo quella di fronte a me e prendo la... Io ho quella di fronte a casa! Ok, ok! Cannata pesca, spada! Su, che ho preso tutto! Scappa! Di che tipo? Eh, di pietra! Eh, è figo, figo, figo! Buono, buono! Altri vascelli, ma porca cagna! Dai! Ti martello col mio vascello! Qua dovremmo trovare altra roba, no? Sì, sì, dovremmo trovare una cesta! Eh, ma sotto c'è la... No, vuota! Come vuota, ma no! Eh, vuota, te lo giuro! Ah, eccola! Ah, figo! Ho preso chain leggings! Adesso sono... Posso tovercare con i miei leggings! Ma sei un coglione! L'abbiamo sprecata! Sari blazing minchia, blazing panda! Aia! Aia! Blazing panda, ma che cazzo hai? Ma com'è che hanno i... Bella, madonna! Attento, c'è Angel Princess! Attenso dal gel princess! Ma è una donnicciola! Cosa vuoi che ti faccia? Uccidila! Uccidila! Arrivò! Penetration! Mori, mori! Double penetration! Mori, mori! Mori, mori, mori! Broia! No! È arrivato! No! Mamma, ucculo! Ma sempre! Tieneti, muori, ti! Mori! Non è morto! No, è chiuso! Oh, sta venendo da me, sta venendo da me, sta venendo da me! Arrivo, arrivo! Sta venendo da me, sta venendo da me! Dove sei? E la madonna! C'è la spana d'oro, c'è la spana d'oro! Ci ho metto il cuore, sono morto! No! No! No, non mi avrai figlio di zoccola! Dov'è? È scappato! È scappato! Te, venite! Esplodi! No, e non era scemo! Pensavo fosse più coglione! Pensavo fosse più scemo di me, invece ha vinto lui, oddio! Crepa c'è! Crepa c'è! Seguimi, surri! Mori, 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 mori! Dai, dai! Impicchiamolo! Ti prendo, ti prendo, ti uccido la famiglia! Mi spacco la bottiglia, dai! No! C'è uno che mi sta dando le pacche dietro! C'è la spana di diamante! Eh sì, diamante, questo diamante! È la madonna, no! No, 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 no! No, si sono alleati, si sono alleati! Sei morto? No, scappo! Fanculo il mondo! No, non mi avrete mai, l'ultimo stardi! Ho una brutta notizia per te. Sei morto? No! No, vincerò io! Vincerò io! Ha vinto lui! Strano, strano! Mafia 2004! Eccolo qui! Il winner del 2015! 5, 8, 3, 2, 1... Eccomi, eccomi, arrivo! Spada! Cazzo, mi ha fottuto la spada, sto cagno bastardo di me! Sto scappando! Mi ha levato i cinque uori, mi ha levato! Scappa, scappa! Se crepi è l'inizio! Ti avevo detto di scappare! Eh, ma stavo scappando! Attento! Guarda! Attento dietro! Attento! Scappa! Scappa! Ah, sbaglia! No! No! Sono accaduto! Porca muttana! Oh, madonna! 3, possiamo farcela! Camperare! Non stiamo camperando! No, non è... Cioè, non è che... Stiamo battendo la zona, esatto! Cioè, avete visto gli altri gameplay del... Visto il minigioco? Cioè, noi siamo di pro della madonna, è solo che la sfortuna a volte... Esatto! Cioè, noi non camperiamo mai! No, no! Siamo sempre là in prima linea! Cioè, non sto cercando di salire sulla fronda più inaccessibile! Ma perché vuoi fare questa cosa? Non c'è nemmeno una cesta, qualcosa! Ma non è un'armatura, chissà... Vai, buttati! Buttati cd! Buttati cd! Buttati cd! Entraci! Prendilo! Iiii! Sto messo in merda! Nell'acqua, nell'acqua! Che cazzo! Ma non lo prendo! The fuck! Perché non muore, cazzo? Vieni qua, bici! Perché lagga! Dai, dai, dai! Ma dove scappi? Ormai sei morto! Girati e fatti sacrificare a satana! No, ho finito le frecce! Ah, fai lato! Sì! Ok, bella, prego! Mamma mia, l'hai distrutto! Eccoli! Dove? Eccoli! Minchia, quello è full armor! E spara gli spara! E la madonna scappa! Ah! Con la spada! Con la spada di inverno! Ha paura! Diamante! 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 E vabbè, cos'è? La mafia! La mafia! To the end! To the end! No! Cazzo! Cioè, dai, era impossibile sopravvivere qua! Ok, ragazzi, questo video finisce qua! Io spero tantissimo che vi sia piaciuto! Ringrazio Surry per aver giocato con me e twercare insieme a me! Se volete altri video con Surreal del genere o magari qualsiasi altra cosa, fatecelo sapere nei commenti con un bel mi piace! Ci vediamo al prossimo video! Ciao!